Lionel Messi si presenta davanti ai giudici per rispondere dell'accusa di frode fiscale. Il calciatore argentino del Barcellona e il padre, Orge Orasio, sono stati convocati dal Tribunale di Gava che indaga su una presunta evasione di 4 milioni e 160 mila euro. Il quattro volte pallone d'oro è stato ascoltato subito dopo il padre. I due che respingono le accuse e addossano la colpa al fiscalista avrebbero nascosto al fisco spagnolo una parte dei profitti guadagnati sui diritti d'immagine. Grazie a tutti.